Teramo la prova vibonese dopo due stop consecutivi per la squadra di Massimo Pace c'è l'ostacolo calabrese contro una formazione che non vince addirittura dal 2 dicembre scorso 2 a 0 alla casertana per intenderci dalla partita che precedeva la sfida di andata al Bonolis terminata in parità 2 a 2 dunque più di un girone senza gioie per i vibonesi di Roselli che sono al quartultimo posto in graduatoria quota 28 punti una situazione non facile ma della quale il deve approfittare perché più che guardarsi avanti ora il diavolo deve volgere lo sguardo all'indietro visto che casertana e palermo sono a ridosso dei biancorossi per cercare il blitz che darebbe nuova linfa alle speranze playoff Pace potrebbe confermare la squadra di domenica scorsa con il solo reinserimento di pinzauti davanti al posto di mungo per dare maggiore sostanza alla prima linea apparsa davvero troppo poco pericolosa non basterà solamente affidarsi agli attaccanti perché i tre a ridosso della punta saranno chiamati a dare sostegno alla fase avanzata ancora autosoprano di Matteo Cappa Berligea fuori anche Chiere Mateng così come i giovani Lombardi e Bellucci Carro Ilari sei gol in stagione invece analizza così la sfida in terra di Calabria. Dobbiamo guardare troppo in là anche perché sarebbe secondo me un errore concentriamoci di partita in partita cerchiamo di fare più punti possibili poi come detto te in base ai numeri sicuramente potrebbe essere quella la 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 squadra da recuperare però concentriamoci sulla Vibonese e su nient'altro ecco abbiamo sempre fatto un po' più un po' più fatica con le squadre che erano chiuse e ci stiamo lavorando stiamo cercando di trovare delle soluzioni e di fare dei movimenti che siano ben orchestrati dal punto di vista offensivo purtroppo ci manca sempre qualcosina per riuscire a far gol dobbiamo cercare di essere più precisi nell'ultimo passaggio nelle ultime nella conclusione in modo tale da bloccare le partite e riuscire ad andare a segno. Vibonese che dovrà fare a meno di Berardi convocata con la nazionale di San Marino battuta giovedì 5 a 0 dall'Inghilterra nelle qualificazioni al mondiale 2022 in Qatar che domani alle 20.45 se la vedrà in casa contro l'Ungheria. Roselli si affida a Plesch a 10 reti finora nel campionato e toccherà a Piacentini di Akite cercare di contenere l'attaccante della Vibonese e provare a strappare punti pesanti in una trasferta dalle mille insidie.